Signori, Risa Durmisi è della Lazio! Abbiamo preso finalmente il terzino sinistro, quindi non più l'Axalt, ragazzi, perché lo stesso ruolo hanno anche caratteristiche molto simili, ma Risa Durmisi per 6 milioni e mezzo, direttamente dal Betis, Siviglia, ragazzi, nazionale danese, nato però di etnia albanese, genitore albanese, ma ha scelto la nazionale danese, non è stato convocato per i mondiali, mi pare, ha detto che sia una grande delusione per lui, ma ragazzi, fidatevi, è un acquisto che farà la differenza, meglio anche forse di L'Axalt, vi dico la verità, più qualità, L'Axalt magari fisicamente è leggermente più forte, hanno caratteristiche simili, ma Risa Durmisi ha qualità tecniche, sa battere anche calci piazzati col sinistro, è un mancino, e noi ci manca un mancino che batte le punizioni, perché abbiamo Luis Alberto che le può battere, o Milinkovi Savic che le può battere col piede destro, ma col mancino non c'è nessuno, quindi è un'altra, anche calci d'angoli ad esempio, giocatore alto 1.68, brevilineo, veloce, bravo nel dribbio, tecnico ovviamente più offensivo, ma comunque anche doti difensiva accettabili, ragazzi, secondo me con il suo arrivo va a chiudere Jordan Lukaku, che ha a mercato, e secondo me se arriva un'offerta discreta per Jordan Lukaku, probabilmente se ne andrà anche, perché è un po' chiuso da quella parte lì, è un acquisto un po' all'amaro, dici, Durmisi è più giovane, lui è del 94, però è un po' così, una scommessa in parte, perché comunque, Vieti Sivile è una squadra che quest'anno ha fatto bene, la Liga è un campionato importante, e è un giocatore molto umile, ho sentito che ha detto, non penso ai soldi, basta stare bene, avere il pan a tavola, quindi veramente, mi hanno colpito queste frasi, è un bene, un onore per me avere un giocatore così nella mia Lazio, e però mi ha anche ambizioso, ha detto, voglio diventare il migliore esterno danese, della Danimarca, appunto, è comunque sulla buona strada, ancora giovane, ragazzi, comunque dal 94, ancora, sono convinto, margine di crescita, ragazzi, 6 milioni e mezzo, secondo me è un grande colpo, un colpo un po' in sordina, perché sembrava appunto che andassimo a prendere Diego Laxalt, che costava di più, costava di più a un anno in più Diego Laxalt e di Durmisi, però, ragazzi, vi dico la verità che sono più contento di questo acquisto che di Laxalt, perché? Perché ha più qualità, e noi sulla sinistra, Lukaku, era un treno, però gli mancava un po' di qualità, Durmisi, ragazzi, ha quella qualità più up e più dribbling, più tecnico, può farci fare la differenza, ragazzi, e dovremmo prendere uno sulla destra uguale, perché Mardic, anche lì, uno che corre, corre, ma quando c'è da dribblare, da crossare in un certo modo, da fare, gli manca qualcosa, purtroppo, e Diego Laxalt non ha una grande qualità, parliamoci chiaro, e costava anche di più, quindi secondo me è stato un acquisto veramente top di illitare, veramente, chapeau, voto 8 a questo acquisto, gli darei. Signore, quindi, buona fortuna a Rizzaturmiso, seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto, e mi raccomando, passate nella pagina Instagram, Curva Nord 12, che vi lascio nel primo, link in descrizione. Devo salutare Man of the Year, e signori, se volete essere salutati, me lo scrivete qui sotto, signori, bella! Forza risa, dai!